La nostra scuola si vede un'eccellente costruzione, circondata da un grande parco, il Castello di Lughezza. Oggi è il fantastico mondo del fantastico, dove possiamo vivere tante avventure meravigliose. Ma le fondamenti al Castello di Lughezza si perdono alla notte dei tempi. Nel secente avanti Cristo, lì sorgeva la città antica di Collazzi e la leggenda della sua regina Lucrezia è la base della nascita della Repubblica Romana. Su queste robine della memoria inizia l'evoluzione che, come una macchina del tempo, ci porterà i nostri giorni. Nel corso dei secoli, il Castello è stato una fortuosa villa romana, un monastero fortificato che ha abitato nei monaci benedettini, un castello di proprietà e famiglie come i medici e i scorsi. Poco prima della Seconda Guerra Mondiale, il Castello rivenne comando il generale dell'esercizio ciascetese. Poi dopo la liberazione furono occupati per dieci anni tra gli scollati italiani. Poco prima della Seconda Guerra Mondiale, il Castello rivenne comando il generale dell'esercizio ciascetese. La meravigliosa storia del Castello. Oggi è stato classificato il tormento nazionale. Grazie. Grazie.